Vedete eccola! Peppineapple apple pen! Eccolo perfetto! No! Colpire la nostra pineapple e ce la facciamo! Uuuuh! Ciao a tutti ragazzi sono l'Adotech e bentornati in questo nuovo video su Peppineapple apple pen! Ragazzi questo tormentone ormai ci ha veramente stufati Ma a me sinceramente è piaciuto tantissimo Però lo si sente da tutte le parti tutti i video parodie Ne parlano tutti ma io sono qui ragazzi oggi proprio per portarvi la novità ragazzi di questo Peppineapple apple pen Il gioco ragazzi il gioco devo dire che è veramente semplice Una funzionalità molto semplice ma non è da sottovalutare perché mi è piaciuto veramente tanto ragazzi Allora vediamo subito menu semplicissimo subito la partita E dopo vedremo ulteriori cose Allora tap to shot partiamo subito Dobbiamo formare ovviamente la nostra Peppineapple apple pen Vedete eccola! Peppineapple apple pen! Quindi ragazzi dobbiamo proprio cliccare molto semplicemente Per prendere le diverse apple e le diverse pineapple E formare la nostra Peppineapple apple pen Ovviamente dobbiamo prenderle in ordine ragazzi Quindi adesso devo riuscire a fare la pineapple pen Non è che posso prendere prima Ecco vedete pineapple pen Allora ce la faccio Peppineapple apple pen! Dobbiamo prenderle in ordine quindi ragazzi Dobbiamo stare molto attenti a come le colpiamo E eccolo Peppineapple pen Apple pen e ce la facciamo Ricordatevi sempre la pineapple e dopo la apple ragazzi Apple pen Adesso devo Eccola Apple pen Ce la faccio Perfetto Peppineapple apple pen Lo scopo di questo gioco è andare il più avanti possibile ragazzi Vedete che ogni volta che prendiamo un frutto Andiamo Eccolo Perfetto Andiamo avanti di un punto Quando facciamo pen pineapple alla apple pen Guadagniamo 4 punti Dai che Ok Adesso devo fare l'apple pen No 41 punti il mio record personale Torniamo nel menu ragazzi Perché ready Vediamo che ogni tot di tempo Iniziamo a colpire la nostra pineapple E prendiamo tantissimi tantissimi soldi Vedete Ogni tot di tempo adesso tra due ore prenderò ulteriori monete E andiamo in basso a destra qui nello store nella borsetta Perché possiamo prendere diversi tipi di penne E ce ne sono veramente un'infinita ragazzi Sono tantissime Prendo questa Oh mio dio che cos'è questa penna qua Ok Ogni 200 Vedete che ogni 200 monete possiamo sbloccare una nuova penna E andiamo a giocare Pineapple pen Uh Peppineapple Apple pen Mamma ragazzi Cioè questo gioco No Questo gioco è demenziale ragazzi Come ovviamente il video Ma è una cosa geniale Mamma mia che roba ragazzi Ok Apple pen No l'ho mancata E andiamo subito a sbloccare anche un'altra nuova pena Questa Oh mio dio Questa ragazzi la conosciamo tutti La conosciamo tutti ragazzi Oh finalmente una pena decente ragazzi Mamma mia questa Queste qua a scuola le usavo tantissimo Peppineapple Apple pen Mamma mia ragazzi Allora devo dire che Ovviamente giocando sempre di più Mi sono accorto No che cavoli Mi sono accorto che l'apple pen E il pineapple pen Arrivano quando proprio La tirate proprio vicinissimo al centro del frutto Vedete che come lo prendete di lato O sbagliate non ve lo conta Invece quando lo tirate proprio Eh Non era proprio al centro Ma vicinissimo O al centro O vicinissimo al centro Ragazzi Apple pen E adesso non l'ho preso bene E comunque ve lo conta Apple pen Perfetto Peppa in apple Apple pen Ebbene ragazzi Anche per questo episodio È tutto E come sempre Se vi è piaciuto questo video Pollicione in su Vi ricordo che qui sotto Potete iscrivervi al canale Nella descrizione Trovate il link alle mie pagine Facebook, Twitter e Google Plus Tra benissimo l'episodio precedente E noi ci vediamo nel prossimo video Kawabang a tutti ragazzi Ma non riesco ad arrivarci Sì Ok Due Ah ecco Proviamoci No Sì No No No